salve care e carissime carissimi buongiorno benvenuti bentrovati ben svegliati eccomi qua zaire sui tarocchi il suo messaggio il mio messaggio del giorno per voi iniziamo subito con le mie meravigliose carte come vedete ho preparato diversi tipi di carte di mazzi di carte poi dopo quando vi dirò le carte in uscite in uscita vi dirò anche la tipologia di carte scelte per voi per le mie maghette per le curiose che gli piace sapere che carte uso allora ragazze ragazzi come state spero bene spero che questi miei interattivi facciano compagnia lo scopo è solo questo se girata questa prendiamo questo e quello appunto di un sano e tranquillo intrattenimento fermo restante che ci piace non può sapere cosa ci riserva il futuro magari che ne so se l'universo ci vuole così donare qualche perla di saggezza ovviamente sapete che non può assolutamente ritornare su tutte quante voi perché insomma siete tante energie siete tante persone e sarebbe assolutamente impossibile che si possa verificare ciò però io vedo che ci sono dei riscontri e comunque se non sarà oggi questa è caduta e la prendiamo sarà domani io lo faccio tutti i giorni quindi non abbiate timore abbiate fede prima o poi magari arriverà il messaggio giusto per voi allora ragazzole mie io vi voglio sempre dire che anche se ci sono dei riscontri e per carità insomma io non dico che non succede nulla però mi raccomando prendete sempre le risposte a ciò che viene fuori con le dute cautele poi se volete approfondire un qualcosa che vi sta particolarmente a cuore o anche semplicemente verificare se in una di queste stesse che io faccio si parla di voi basta fare un consulto personale e solo lì potrete così almeno levarvi qualche dubbio o avere qualche certezza in più con gli interattivi no mi raccomando se volete fare questo consulto con me se avete la necessità di farlo troverete tutte le informazioni relative a come contattarmi nella descrizione del video nella infobox poi volevo anche dirvi che è gradito ovviamente un like per chi già è iscritto per chi non è iscritto è gradito sui like che l'iscrizione voi non costa niente è un piccolo movimento del dito però sia l'uno che l'altro è gratificante per me e soprattutto anche per voi perché se voi ascoltate un interattivo e comunque vi trasmette un'energia qualcosa di insomma che vi che vi come dire mi fa piacere ascoltare il like è come dire un grazie e quindi l'universo vi premia di più se voi siete grati e reagite in maniera positiva e soprattutto anche diciamo ringraziando no ciò che uno fa al titolo gratuito quindi insomma aggiustate un po la vostra energia e aiutate chi fa gli interattivi a sostenere il canale allora ragazzo le mie 3 3 6 ok vi faccio subito la lingua delle carte in uscita gli oracoli di elen ritorno all'origine pensiero alla famiglia vivere ancora con i genitori questa carta esce spesso forse fra quelle che mi seguono c'è qualcuno che viva ancora con i genitori ora abbiamo qui le carte francesi che ci parlano viene un 8 di di picche quindi abbiamo un 8 di bastoni e abbiamo il re william secondo quindi questa persona autorevole amante la carta dell'albero la carta dell'albero i tarocchi napoletani o mariola o marioli i tarocchi dell'indovino uscita la carta dell'asso di spade di qua c'è l'asso di spade le norman francesi la lettera però capovolta le sibille italiane abbiamo l'allegria ancora le sibille di nostra damos il castello la mia carta azzurra ha bisogno di tempo allora qui c'è qualcuno che ha bisogno di tempo quindi dobbiamo un po metterci nella come dire nella comfort zone di dire aspettiamo ovviamente sempre se vi interessa questa persona allora mettetevi la tranquille perché qui questa persona ha bisogno di tempo ora qui abbiamo il personaggio è il personaggio è un personaggio molto ben definiti ben definito cioè questo è uno alto magro magari un po biondarello può portare i capelli lunghi avere i baffi amante degli animali amanti degli animali anche un po come dire una persona che che ama anche qua potrebbe questa persona fare parte dei segni di fuoco quindi sagittario leonariete essere un passionale essere una persona comunque un combattente una persona forte che sa come risolvere le situazioni ma è anche ovviamente essendo un otto è anche una persona che crea un sacco di ostacoli perché perché evidentemente se questo vive ancora con i genitori faccio conto è una persona molto immatura se questo sta sempre lì a brindare a allegrarsi e insomma come se ci avesse vent'anni se non le ha è un problema allora l'albero ci parla di la parola chiave è la salute sono le questioni fisiche e quindi la crescita la ripresa di un qualcosa e ci parla anche di spiritualità di radici e insomma di qualcosa che si avvia lentamente quindi questa persona è una persona che ancora c'è il pensiero non lo so questo forse al pensiero dei genitori oppure ancora una persona che si occupa dei genitori o vive con i genitori insomma oppure è semplicemente una persona che vuole ritornare all'origine al pensiero della famiglia così come magari la confrontava a casa sua nel senso dice voglio farmi una famiglia ma la voglio fare come era la mia famiglia oppure vi ripeto questa persona potrebbe essere una persona semplicemente un immatura che vive così alla giornata c'è una crescita vuole crescere però è come se avesse sempre un eccesso di collera di aggressione un eccesso di azioni di parole forti e poi anche una persona da dover fare un po' attenzione perché vedete esce la carta o mariolo o mariolo è l'imbroglione è una persona che dovete fare attenzione perché vedete vi può creare un furto dovete fare attenzione qui c'è stato una risposta mancata un messaggio come dire inutile un qualcosa che doveva avvenire non è avvenuto cioè magari voi avete chiesto qualcosa questa persona non ha risposto questa è una persona vedete che la vedo profondamente immatura devo essere sincera anche questa carta che ci invita al coraggio nel senso che questa persona potrebbe sembrare un coraggioso pieno di temerialità però però dovete deve un po' dominare questo ardimento perché è come se fosse un po' troppo aggressivo nelle sue espressioni però poi magari nel concretizzare lo vedo una persona che un po' non dà affidamento quindi io qua vedo voi voi che siete dall'altra parte che in qualche modo avete a che fare con questa persona questa persona che comunque mi viene una persona così un po' come ve l'ho descritta quindi qua c'è stato un come dire un qualcosa che doveva probabilmente fare questa questa energia nei vostri riguardi e non la fa e non l'ha fatta e quindi qua voi dovete mettervi nella posizione di attesa questo o questa ha bisogno di tempo ora io giusto così per avere qualche diciamo indicazione in più voglio capire ma ha bisogno di tempo perché questa viene questa carta bisogno di tempo qual è il problema principale di questa situazione qual è il problema di questa situazione ecco qua come infatti io avevo percepito vedete mi piacciono le situazioni superficiali cioè questa persona con cui voi state probabilmente interagendo o avete interagito o inter interagirete in futuro sapete presente passato e futuro è difficile da collocare in un messaggio così interattivo è sicuramente una persona un po' superficiale proprio come vi avevo accennato una persona che gli piace uscire ancora con gli amici magari questo vive ancora in famiglia oppure non ha idea di farsi una famiglia diceva vabbè più in là chissà sarà non sarà una persona che è collerica una persona che può umiliare può fare delle azioni di aggressività una persona eccessiva soprattutto una persona che vi può imbrogliare perché perché vedete ama le situazioni superficiali quindi probabilmente relativo a voi ha bisogno di tempo non esclude con questa carta della della dell'albero non si esclude non si esclude che questa situazione possa avere una sorta di ripresa oppure possa mettere radici lentamente però vi dico molto sinceramente che qui ci sarà proprio come dice questa parte carta questo ha bisogno di tempo è qua non so se voi potrà sentite da aspettare i comodi di questo diciamo di questa energia va bene care quindi il messaggio è questo mi raccomando se vivete una situazione che ha a che vedere con quello che è venuto fuori dalle carte sapete che qua c'è da aspettare quindi fatevi i vostri conti vedete un po come diciamo se la situazione è giusta per voi altrimenti lasciate perdere almeno non perdete tempo questo è tutto io vi ringrazio vi aspetto nei commenti fatemi sapere vi mando un abbraccio di luce vi do appuntamento a domani mi raccomando non mancate ciao ciao